Oggi siamo a Milano e siamo in compagnia di Giuliano Regonesi che è il fondatore di Nur Technology, una società che produce dispositivi capaci di eliminare virus e batteri sfruttando le proprietà sanificatrici dei raggi UVC. Regonesi, i vostri prodotti sono utilissimi in questo momento di progressive riaperture. Come è nata l'idea di applicarvi in questo settore? Innanzitutto grazie di essere qui. La società è nata a seguito di un approfondimento della ricerca in campo universitario per quanto riguarda la qualità dell'aria negli ambienti chiusi. Tutti quanti ci siamo sempre preoccupati e ci siamo fatti domande per quanto riguarda la qualità dell'aria esterno, il biossido di carbonio, ma poche volte ci siamo chiesti ma la qualità dell'aria dove noi viviamo e lavoriamo e dove passiamo probabilmente l'80% del nostro tempo è un'aria salubre che consente di vivere senza grossi problemi? Purtroppo la risposta è no. La qualità dell'aria degli ambienti chiusi è fortemente condizionata dai materiali che vengono utilizzati per la costruzione dei mobili, colle, eccetera, per i mobili MDF ad esempio, oppure per le vernici delle pareti o per gli oggetti che semplicemente vengono contenuti e quindi abbiamo emissioni di gas decisamente pericolosi. La nostra ricerca parte da quello. I virus e batteri sono sicuramente un argomento che oggi giorno è attualissimo ma un aspetto, il principale in questo momento ma non l'unico, che noi stiamo studiando. Come si procede alla sanificazione dell'aria? Allora, questo apparecchio che vede è un apparecchio molto semplice. Si tratta di un aspiratore che riesce ad aspirare appunto l'aria presente nel volume che si vuole sanificare. All'interno abbiamo dei led UVC a 265 e 285 nm, quindi una doppia frequenza. L'aria entrando viene a contatto con il fascio di luce che viene assorbito dalla capside proteico del virrione, l'oltrepassa e riesce a bloccare il collegamento tra l'adenina e l'uracile nel caso dell'RMA o nel caso del DNA dell'adenina e la timina. Questo rende inattivo il virus o l'eventuale patogeno, non solo il virus ma i patogeni in genere e quindi sono impossibilitati a replicarsi. Il vostro prodotto di punta è SterilTube. Dal punto di vista dei costi è sostenibile? Una delle priorità della nostra azienda è sicuramente quella di fare un prodotto che possa essere il più diffuso possibile e ovviamente l'essere economico è un principio base per avere questo risultato. Sicuramente rispetto alla concorrenza parità di qualità abbiamo un prodotto molto più competitivo e soprattutto un prodotto di facile applicazione e che non ha nessun tipo di manutenzione, oltre che ad avere un consumo, quindi un costo di gestione praticamente molto molto basso. Si tratta, come dicevamo, si basa sulle luci led. Ecco, l'uso delle luci led lo rende anche un prodotto attento all'ambiente. Assolutamente, infatti non solo i materiali che lo compongono, l'alluminio ed altri, sono tutti materiali compatibili e sostenibili. Inoltre le luci led, come ormai tutti sanno, hanno una durata decisamente lunga. Le nostre in particolare durano 70.000 ore prima di avere una fine. In realtà in laboratorio sono arrivati a 90.000 ore, ma sono con condizioni di laboratorio. Quindi 70.000 è un risultato molto buono. Quindi non abbiamo grandi consumi, abbiamo un prodotto fatto con materiali sostenibili, abbiamo luci che hanno una lunga durata nel tempo. Se posso dire l'alternativa in xeno, non con vapori al mercurio, ha durata dalle 3.000 alle 5.000 ore. Quindi è una cosa completamente diversa. Parliamo di strumenti che oggi sono utilissimi ovviamente contro il coronavirus, però la vostra è una visione molto più ampia. Assolutamente più ampia. Diciamo che è stato il fatto di dover intervenire contro il virus è stato un incidente di percorso. Il nostro obiettivo è quello di, come dicevo prima, trattare l'aria da gas molto pericolosi e molto più subdoli. Adesso siamo in una situazione che ovviamente è sotto gli occhi di tutti e quindi i virus hanno portato su di sé tutta l'attenzione, ma obiettivamente ci sono situazioni molto più dannose e su cui bisognerebbe lavorare sicuramente molto. Possiamo resistere e non mangiare per un mese, possiamo non bere per un paio di giorni, ma non possiamo smettere di respirare per più di un minuto. Grazie Regoni, si ci ha dato dei consigli che saranno veramente molto utili. Grazie a voi ancora. Grazie a voi.